Voi cosa pensate? Ce lo sapremo dire fra 20-30 anni. Voi cosa pensate? Che andando via Berlusconi l'Italia sarà migliore? Eh? Questo pensate? Siete contenti che lui stia male? Perché deve star male? Cosa ha fatto? Perché deve soffrire? Voi le conoscete le sue carte, i suoi processi, sapete tutto, eravate lì ad Arcore, siete certi? Quindi quello che dice Ilda Bocassini, quello che dice qualsiasi magistrato, è un qualcosa che dice un essere umano. Ora sto facendo un video più generale sull'odio, non sto parlando, non voglio difendere Berlusconi, mi sembra che mi dicono che sono fazioso, però voglio farvi capire che anche voi siete degli idioti, perché voi ascoltate quello che dice il magistrato, è legge. Evidentemente non avete mai sentito casi come Enzo Tortora o altri accusati ingiustamente e solo dopo 20-30 anni dichiarati innocenti. Perché vivete nel paese dei balocchi, vivete in un paese come l'Italia che è un paese di merda, attenzione io ho sempre detto che è un paese di merda, ma è un paese di merda in primis perché c'è gente come voi che odia. La stessa gente come voi, cioè voi stessi, siete quelli che per strada calciate una persona che sta a terra, siete gli stessi che non avete pietà, siete gli stessi magari che in campo scolastico, se siete degli insegnanti mettete a disagio gli alunni, siete gli stessi che aspettate 10 del mese per prendere la paga, siete gli stessi che cercate di evadere, voi, tutta questa massa di gente che fate parte di una merda enorme, voi fate parte di questa gente qui, ecco qua. E ce l'avete poi con Silvio.